bello a tutti ragazzi lo xiuderone anche oggi qui con voi con un nuovo video con il primo video di clash mini come vedete il nuovo gioco di supercell è stato rilasciato meno di 5 ore fa in tre paesi nel mondo nuova zelanda canada e finlandia non siamo qui per vedere come si gioca lo so che non vi interessa in questo primo video ma siamo qui per rispondere alla domanda più importante xiuder come faccio ad avere il gioco sul mio cellulare te lo spiego immediatamente prima però mi raccomando un bel pollicione in su schiacciate distruggete il tasto dei like iscrivetevi al canale ragazzi aiutatemi a crescere daie 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 cambiamo subito intanto inquadrature in modo che siamo tutti più comodi a vedere quello che dobbiamo fare e usciamo da clash mini non ci interessa siamo nella parte nel desktop ok del nostro cellulare passaggio numero uno andare nelle impostazioni di sistema alla voce app scendere fino a google play store cliccarci sopra e fare termina ok bisogna stoppare google play store per correttezza controlliamo anche google play service che dovrebbe già essere terminato e anche google play service for instant app anche questo è terminato non lo richiede il tutorial io l'ho fatto per essere sicuro passaggio numero due far credere al cellulare che ci stiamo connettendo da un paese dove è stato rilasciato clash mini come si fa semplicissimo apriamo il play store di nuovo digitiamo f secure f trattino secure raggiungiamo questa app f secure freedom vpn è quella che come avete visto a il quadratino con degli archetti ve lo faccio rivedere è questa ok una volta che l'avete installata la potete tranquillamente trovare sul vostro desktop e dovrete fare una cosa sotto ci avrete ubicazione italia ok voi ci cliccate sopra e come vedete nella parte europea avrete tutte le varie nazioni trovate finlandia espo ok ci cliccate sopra e lui come vedete dirà ubicazione espo cliccate nella parte centrale bianca dove voi avrete scritto protezione disattivata protezione attivata seguite i passaggi e dategli anche proteggi con il wifi è il bottone sopra blu quindi è molto semplice arriverete a questo screen quindi protezione attivata protezione connessione navigazione tracciamento protezione delle app in questo caso per per essere sicuri anche che avete fatto tutto bene tirate giù il menu a tendina del vostro smartphone e se vi dice freedom è attivo connesso a finlandia espo state facendo le cose bene passaggio numero 3 dobbiamo creare un account google che arrivi dalla finlandia quindi con il telefono io vi consiglio di fare un'altra cosa rifate il passaggio dove stoppate google play store per sicurezza non vi costa niente ci vuole veramente un secondo riaprite google play store in questo momento lui saprà che siete connessi dalla finlandia dovete cliccare sul logo in alto a destra dove c'è il vostro profilo aggiungi un altro account crea un account per me fate tutti i passaggi nome cognome data di nascita vedrà direttamente che siete dalla finlandia se dovesse chiedervi il numero di telefono aspettate qualche minuto e riprovate a farlo a me personalmente non l'ha chiesto però riprovando a farlo con gli stati uniti me l'ha chiesto quindi incrociate le dita e provate e riprovate finché non vi chiede vi schippa il passaggio avrete creato quindi il vostro account direttamente dalla finlandia non ci serve più google play quindi potete tranquillamente tornare alla pagina del desktop e aprite il vostro browser quindi io in questo caso ho chrome ok voi avrete quello che volete cosa dovete fare andare nella descrizione del video proprio sotto troverete un indirizzo ok che io per comodità vi faccio vedere qui ma lo troverete sotto in modo che potete copiarlo con il vostro ditino lo copiate lo incollate nella barra degli indirizzi fate invio fate vai e vi apparirà la pagina google play app come vedete direttamente su clash mini qui voi avrete il tasto con scritto installa ci cliccate sopra non toccate più nulla e lui automaticamente vi installerà clash mini aspettate qualche minuto perché con la connessione è criptata quindi con la vpn ci vuole più tempo ovviamente quindi non abbiate paura anche se si blocca un pochettino poi si riprende basta non dovete fare più nulla troverete sul vostro desktop l'icona di clash mini che potrete poi ovviamente cliccare e cominciare a vivere questa avventura con il nuovo gioco di supercell io spero che questo video vi sia piaciuto ragazzi mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi se riusciamo a non sbagliare la transazione ci vediamo al prossimo video di clash ciao 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 ciao